è tornato da te dopo ma che cazzo la vuole guarda continua a girare sul bus dai oh ci mettiamo a Milano o a Svizzera dimmi tu no no io domani parto vieni a Milano vieni a Milano a Milano? a che ora è che parto domani bro? a Milano ma ascolta ascolta ma una cosa quanto mi paghi per fichiarti dai ti faccio una bella festa ti ha salvato la tua carriera di barca eh? quanto mi paghi? ti ha salvato la carriera ricordatelo quanto mi paghi per fichiarti? vieni dai ti faccio un buon bello vengo da solo ti porto un paio di persone sai contare? no io porto i miei mi porto a JJ sì quello l'abbiamo capito ma vengo da solo vengo con gli altri non me ne fotto un cazzo porta chi vuoi non è che ho paura di te sei sicuro? ma vedi come fa il figo? ma zio sto qua le prende le è piaciute le è piaciute la serata con me la tua tiva te l'ha detto ti ha raccontato un po' non ci ha parlato non ci hai parlato la cazzo è poi venuta da te te la sai anche limonata ma zio ma quanto fai schifo? a te? non è che non è limonata? è vero che come al solito si dice vimpiate come al solito si dice vimpiate ma zio ho tagliati i tuoi denti di plastica eh? c'è il grill fake guarda zio ho tagliati i tuoi grill di merda guarda il mio è vero a te? eh ma come c'è la tua tiva è piaciuta vieni ma zio a te devi far meno figo ma i soldi ce li abbiamo tutti i soldi ce li abbiamo tutti i soldi i ragazzi che stanno guardando la live ora chiunque sa i soldi ma non è quello avere soldi è rispetto ma zio che rispetto vuoi avere con le canzoni di merda che fai? ma non sai di cosa canti ma le senti ma zio ma ascolta vieni ascolta vieni ma la tua tifa prima quindi sapeva chi ero no? per venire con me per forza devi sapere chi sono sennò con chi cazzo vabbè zio guarda che me la sono scoppata ancora qualche giorno ma ti ho fatto una domanda sapeva chi ero sì o no? ma se sei tu che l'hai cercata ah io bene bene ma zio ma buona quindi domani a che ora? a che ora domani? a che ora è il volo bro? fa a vederli meglio leggi qua è scritto è scritto bro rispondi zio io sono in zona alle tre alle tre? alle due no fai serio ti fai vedere alle due già con un paio di persone siamo lì ad aspettarti basta che non dai buca però alle tre zio non fare cazzate alle tre alle due stiamo già lì ad aspettarti bro va bene io ti ho detto alle tre zio senti le mie parole alle tre ok io ti sto dicendo che dalle due dalle dieci di terra noi siamo lì va bene zio alle tre io al volo alle quattro alle tre ci pensiamo con chi sei? se era solo o anche tu con la gente con chi sei? arriva il mio amico Gegé non ti preoccupare perché arriva a te? però sai io come come ho già il sport non ci sei comparte i che sei? se era solo o anche tu ci sei quando ci sei che sei è un sport bene ma è un sport è un sport tu sei che sei è un sport puoi